Buongiorno e bentrovati all'ascolto e fate bene ad essere qui Roberto Forti con le canalizzazioni degli angeli, il nostro oroscopo degli angeli per la giornata di oggi, auspici, consigli, segno per segno, con l'arriete come sempre in partenza, è il classico giro dei segni, solo che sono consigli che arrivano per chi ci sta ascoltando, è un oroscopo particolare questo, arriva consigli, indizi, auspici per chi ascolta, soltanto per chi è sintonizzato, per chi ci ascolta. Ariete, dicevamo, per l'arriete oggi tante parole, tante parole, pochi fatti, però ci sarà modo proprio di poter magari parlare, di poter farsi valere attraverso le parole. Per il toro bisogna tagliare il passato, bisogna tagliare coi pensieri negativi perché altrimenti avrete una giornata un po' temporalesca. nati sotto il segno dei gemelli, studiate e definite una situazione, tanto sapete già molte cose, le avete nel cuore. Cancro, amici del cancro, oggi è una giornata in cui se ci fosse un jolly degli angeli, si giocherebbe il jolly degli angeli, nel senso che gli angeli vi mandano tutte le energie, sappiate voi cogliere quella che più vi necessita. Leone, per il leone abbiamo un segreto? Abbiamo qualcosa che stiamo nascondendo, non vogliamo che gli altri lo sappiano? Beh, attenzione perché stanno un po' invece sparlando di voi. Vergine, nati sotto il segno della vergine, a volte bisogna capire che in fondo alle cose, cioè dopo un percorso c'è qualcosa che brilla, c'è una situazione piacevole, però adesso siete nel percorso e magari vi può sembrare tutto un po' difficile. La bilancia è una giornata contrariata per oggi, ma che poi sarà rischiarata dalle stelle del cuore, cioè quindi da qualcosa che in famiglia, in amore, in coppia funziona molto bene. Scorpione, per lo scorpione fate il punto, fate un segno, fate un momento il centro della situazione, studiatela anche perché poi va proprio centrata, mirata per andare verso gli obiettivi. Sagittario, sagittario, qui ci vuole la maglia della salute oggi, attenzione, precauzioni, insomma guardatevi intorno e state molto attenti. Capricorno, il capricorno oggi parte, vola verso altre lidi, verso altre sensualità anche. Per l'acquario un momento invece di meditazione ci vorrebbe, quindi raccoglimento, meditazione, ispirazione e poi andate. E abbiamo il seno dei pesci a chiudere che ha bisogno di un aiuto e attenzione però pesci, attenzione a chi vi parla alle spalle. Ci risentiamo qua all'appuntamento con gli auspiciangeli e l'oroscopo canalizzato da Roberto Forti.